No, 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 ma come? Il volo dei nerviscino tanti è stato annullato per un terremoto e in questi come li faccio arrivare? Un testo di stretta attualità che permette anche di effettuare una sorta di indagine, se vogliamo, dal punto di vista psicologico per quanto riguarda i personaggi che sono in scena. Offre tanti particolari spunti, la strategia del colibri, ma che storia viene raccontata esattamente? Ma la storia è un'ipotetica e fantascientifica, ma non troppo remota dalla realtà attuale, organizzazione di una conferenza per la pace a livello mondiale, quindi più grandi leader di pace insieme ad altre figure vere o presunte, perché c'è anche Babbo Natale con le sue rene, ci sono fakiri, indovini, oncologi, c'è un po' di tutto, si parla del futuro del pianeta, come salvare il futuro del pianeta. E lo spunto è proprio, diciamo, la cruda realtà è che spesso situazioni di estrema delicatezza vengono messe in mano a persone assolutamente incompetenti. In questo caso due disgraziate, perché sono due disgraziate, magnificamente interpretate da Valentina Ghetti e Barbara Mazzoni, sono due esponenti di quei residui di un antico pensiero conservatore e progressista, neanche destra o sinistra voglio chiamarli, con la loro confusione personale che si trovano a scontrarsi per organizzare questo evento di portata immensa. Come sei arrivata a scrivere un testo di questo tipo? Ma cercavo un'idea comica per due attrici che non fossero le solite menate sentimentali, perché sempre il mio ragazzo ha messo le corna, mio fratello purtroppo è gay, la mia migliore amica mi ha fregato il ragazzo, ecco, volevo un tema che fosse diverso, ed è nato esclusivamente per due donne. Poi piano piano si è stagliata questa figura, terzo protagonista, direbbero gli anglosassoni last but not least, perché Livio Beshir ha fatto un Obama miracoloso, veramente miracoloso, tra il Magnifico, l'Ipocrita, il Manipulatore, lo Splendente, e quindi si è creato proprio un triangolo che Max Fado con la sua regia ha reso più una visione che uno spettacolo, mi sento veramente di dirlo. Ecco, un'opera sicuramente collettiva, se vogliamo, in cui qualsiasi figura, sia quelle che sono sul palco, sia quelle che stanno fuori, devono comunque cercare di orchestrare una messa in scena che poi è anche, credo, basata sui tempi, giusto? Sì, sui tempi assolutamente è la mano di Max Fado che ha dettato legge, io glielo ho lasciato fare volentieri. Per me il teatro è prodotto collettivo, basta che mi lasciano l'assoluta e dittatoriale proprietà di un'idea che non sia mainstream, perché più sono strane le idee più mi diverto, e poi possono fare un po' quello che gli pare. E credo che l'abbiano fatto e credo e spero che si siano divertiti come il pubblico, a quanto pare, perché abbiamo avuto una breve presentazione che ha avuto un ottimo riscontro. Ecco, concludiamo parlando anche della location, i giardini della filarmonica, che effetto fa portare un testo di questo tipo in una cornice del genere? Felicità, è la parola giusta. Infatti ringrazio Carmen Pignataro con l'organizzazione dei solisti, che già l'anno scorso mi diede la possibilità di rappresentare un mio testo su Anna Freud, anche lì un'opera non facile, questa se vuoi è un pochino più facile, anche se solo di facciata, e andò bene, fu una grande soddisfazione, io sono contenta, insomma spero che tutte le persone che sono rimaste a Roma e hanno caldo, escano la sera. Abbiamo perso fin troppo tempo, ora andate, il mondo vi sta aspettando.